Agrigento e le amministrative, ascoltiamo l'assessore designato nella giunta del candidato sindaco Lillo Firetto, Giovanni Amico. Giovanni Amico, direttore generale dell'azienda siciliana Trasporti, direttore generale dell'Acragas Calcio e responsabile del settore giovanile. Adesso è impegnato come designato assessore nell'eventuale giunta del candidato sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Per quali ragioni? Io sono stato in qualche modo colpito da una novità che ho rilevato parlando con Lillo Firetto. Io non sono mai stato particolarmente attratto dai ruoli politici, un po' per vocazione perché sono un tecnico, ho studiato per fare il tecnico e questo faccio. Un po' anche per carattere, non sono particolarmente attratto dai riflettori. Tuttavia Lillo Firetto mi ha convinto. Lillo Firetto secondo me propone una novità alla città che è il contemperamento tra quelle che sono i segnali che il civismo di questa città ha portato avanti. La managerialità di alcune persone coinvolte nel progetto e la politica, quella sana. Io credo che la politica non debba mai abdicare rispetto al proprio ruolo che è quello di raccogliere le istanze e cercare soluzioni politiche. Però la complessità dei temi e dei problemi che oggi caratterizzano la gestione di un ente locale non può più essere affrontata solo con la lente della politica. Ha bisogno del supporto di tecnici che possano dare anche una certa managerialità nell'affrontare i temi. Questo è tanto più importante quanto più scarse sono le risorse e oggi siamo in un momento di scarsità di risorse rilevante. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale di questo progetto è il coinvolgimento di quelle associazioni che in città tanto bene hanno fatto in questi anni e che quindi sono contraddistinte per l'apporto positivo al miglioramento di questa città.